C'è una proposta che è nata, che sembra bizzarra, che è nata in sede istituzionale e che è stata accolta favorevolmente non da due pericolosi estremisti, ma da Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e da Angelo Panebianco, uno dei più autorevoli commentatori del Corriere della Sera, che è quella, perché qual è il problema? Che questi sbarchi a Lampedusa, a Lampedusa non possono stare gli immigrati perché è un'isola civile, ci sono le abitazioni, c'è il turismo, ci sono i privati cittadini, quindi devono essere portati sul continente prima di essere identificati e una volta sul continente si sparpagliano, non si può bloccarli da qualche parte e sfuggono ogni controllo. Allora, siccome il problema è dividere gli aventi diritto da tenere e da dividersi in Europa, da chi non ha diritto che è da riportare nel paese di origine, l'unico punto dove questo è possibile farlo in massima sicurezza per noi italiani e per loro soprattutto, è l'isola di Pianusa, che è un'isola deserta dove c'è un centro di accoglienza che una volta era il famoso carcere di Pianusa. Quindi di spostare gli sbarchi dei clandestini che noi salviamo in mare e degli immigrati da Lampedusa a Pianusa, a Pianusa fare un centro di identificazione serio a livello europeo, dove nel giro di poche giorni o poche settimane si stabilisce se Alessandro Sallusti è un aventi diritto o è invece uno che non ha diritto e a quel punto viene o rispedito in patria o mandato dove deve andare.